Strage a Licata dove un uomo di 48 anni ha ucciso il fratello, la cognata e i loro due figli di 11 e 15 anni e si è poi sparato. La tragedia si è consumata questa mattina. Alla base della strage ci sarebbero questioni legate ad un'eredità. Politica aumenta la curiosità in attesa della conferenza stampa di sabato prossimo di Ignazio Messina. Nel frattempo la decisione sull'opportunità di presentarsi con i simboli di partito pare sia diventata più importante dei nomi dei papabili candidati. Covid è positivo al coronavirus. Matteo Ruvolo, sindaco di Libera, dove la situazione è nettamente migliorata rispetto alle settimane scorse. A livello regionale intanto pare che la curva epidemica stia lentamente iniziando a scendere. Pronto soccorso di Sciacca c'è la nomina formale del primario del reparto. Si tratta del dottore Ignazio Galizzi, analogo al provvedimento per Salvatore di Vita, neoprimario del pronto soccorso dell'ospedale dedicata. Partorisce quasi sulla spiaggia, va in grande sofferenza, ma per fortuna viene salvato insieme ai nuovi nati. È successo ieri a San Giorgio, dove uno squalo della specie verdesca, completamente spiaggiato, è stato poi liberato in mare. Giornata della memoria, il sindaco Francesca Valenti e l'assessore Gisella Mondino hanno promosso per domani un confronto online con gli studenti delle scuole primarie della città. E le bandiere del comune saranno a mezz'asta. Ben trovati anche oggi al nostro telegiornale. Ci sarebbero questioni connesse ad un'eredità dietro la strage compiuta questa mattina, allicata da Angelo Tardino, 48 anni, l'uomo che ha ucciso il fratello, la cognata e loro due figli di 11 e 15 anni, e si è poi sparato. Tutto è avvenuto in un quartiere popolare. Sul posto sono giunti i carabinieri. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Agrigento puntano a definire meglio i contorni di una tragedia di queste dimensioni. C'è il servizio. Follia omicida questa mattina allicata. Probabilmente a seguito di un'alite familiare, un uomo, Angelo Tardino, di 48 anni, pistola alla mano, ha ucciso il fratello Diego, la cognata Alexandra Ballacchino. I figli della coppia, Alessia e Vincenzo, rispettivamente di 11 e 15 anni, infine ha tentato il suicidio. L'assassino è stato rinvenuto agonizzante per strada ed è stato immediatamente trasportato all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, dove le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Sembra che all'inizio l'assassino si volesse costituire, poi invece ha deciso di spararsi con la stessa arma con cui, poco prima, aveva ucciso le altre quattro persone, una pistola detenuta regolarmente. L'assassino si è sparato in contrada Saffarello, un luogo abbastanza distante dall'appartamento in cui si è consumata la strage, mentre era al telefono con i militari che volevano convincerlo ad arrendersi. La tragedia è avvenuta in un appartamento di Via Riesi, una zona periferica di Licata, intorno alle 7.30 del mattino. I carabinieri giunti sul posto e la procura di Agrigento stanno già lavorando per delineare i contorni della triste vicenda. Al centro della contesa vi sarebbero motivazioni economiche e dissapori di vecchia data tra le famiglie, inerenti forse alla suddivisione di alcuni terreni su cui coltivavano carciofi. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, sarebbe stata addirittura la moglie dell'assassino ad avvertire le forze dell'ordine che, giunte sul luogo dell'efferato delitto, non hanno potuto far altro che constatare la morte dei quattro soggetti, tutti appartenenti alla medesima famiglia. Una scena apocalittica, con sangue dappertutto, è il tutto avvenuto all'interno delle mura domestiche. Subito sono scattati i posti di blocco con l'assassino, ormai inseguito e braccato, che ha scelto di farla finita prima dell'arresto. Una tragedia che ha sconvolto la comunità di Licata. I vicini di casa sbigottiti hanno dichiarato che mai si sarebbero aspettati un epilogo del genere. Tra le famiglie, da quanto si apprende, non correva buon sangue e le liti in passato erano state frequenti, ma nulla che lasciasse presagire a quanto accaduto. Il pluriomicida Angelo Tardino, infatti, prima di decidere di sterminare la famiglia del fratello, era incensurato. I parenti dell'assassino e delle vittime si trovano adesso in caserma per cercare di capire meglio il movente e l'eventuale premeditazione del gesto. Cambiamo argomento, occupiamoci di politica. Aumenta la curiosità tra i protagonisti della politica sassenza attorno alla conferenza stampa di Ignazio Messina in programma sabato mattina. La decisione sull'opportunità di presentarsi con i simboli di partito al momento sembra essere diventata più importante dei nomi dei papabili candidati. Tra chi ritiene che un partito che si presenta come civico sia solo una scelta ipocrita ci sarebbe anche Mario Turturici. La nota politica è di Massimo D'Antoni. Cresce la curiosità attorno alla notizia anticipata ieri dal nostro telegiornale della conferenza stampa che Ignazio Messina si appresta a convocare per sabato mattina. Curiosità associata alle indiscrezioni politiche delle ultime ore. Sullo sfondo ci sono le elezioni amministrative a proposito delle quali sembra allontanarsi pandemia o non pandemia ogni ipotesi di possibile rinvio di cui si è parlato recentemente. Non fosse altro che il 2022 è anche l'anno delle elezioni regionali. Ignazio Messina sembra puntare ad essere l'attrattore attorno a cui costruire un progetto politico trasversale attraverso un orientamento prevalentemente civico anche se appare palpabile nel suo versante. La sensazione è che la questione più importante non sia certamente quella della presenza di simboli ufficiali di partito. Questione quest'ultima che eppure ha letteralmente impantanato le trattative all'interno del tavolo di centrodestra dove è soprattutto Giuseppe Marinello colui che pretenderebbe che fosse identificabile nella contesa elettorale il logo di Fratelli d'Italia perché è noto che l'ex parlamentare punta a tornare a Roma con una candidatura nella squadra di Giorgia Meloni all'elezione del 2023. A pensarla allo stesso modo ci sarebbe anche Mario Turturici tornato sulla scena politica con l'importante incarico di coordinatore cittadino di Forza Italia chiamato dunque sin da subito a cimentarsi in una competizione elettorale assai delicata che conosce fin troppo bene e tuttavia sembra che non sia del tutto scontata la presenza dei berlusconiani di Sciacca all'interno dello schieramento di centrodestra dove starebbero aumentando i cosiddetti veti incrociati soprattutto quelli contro Nuccio Cusumano di cui ci sarebbe chi non ha ancora digerito l'ingresso in Forza Italia ritenendola una personalità evidentemente ingombrante che se stiamo parlando di uno tra i vincitori delle elezioni del 2017 quelle che culminarono con l'elezione di Francesca Valenti Mario Turturici per primo che ha provato sulla sua pelle la natura della politica dove l'avversario di ieri può diventare l'alleato di domani sarebbe in procinto di dare vita ad una serie di incontri bellaterali per capire gli scenari attuali e eventualmente costruirne uno completamente nuovo ma se secondo i ben informati per l'ex sindaco bisogna superare gli steccati legati agli schieramenti ritenendo più confacente alla realtà locale la creazione di una squadra politicamente e civicamente trasversale e quindi in tal senso evidentemente la pensi esattamente come Messina è anche vero che ritiene un'assurda epocrisia quella di non presentarsi agli elettori con il simbolo di partito e su questo è d'accordo invece con Giuseppe Marinello centrodestra dove è in corso la discussione su chi debba essere il possibile candidato Fabrizio Di Paola, Calogio Robono mentre continuano a salire le quotazioni di Salvatore Monte è ancora presto per capire cosa potrà accadere l'insistenza sui simboli ufficiali di partito rischia di bloccare diverse tra le possibili trattative si sa che per il gruppo Bellanca-Mandracchia-Settecasi questo è un punto di rimente bisogna anche dire però che su questo aspetto i negoziati sono ancora possibili bisogna anche dire però che se Messina è il leader di Italia dei Valori non sembra intenzionato a calare il simbolo del partito fondato da Antonio Di Pietro nella corsa elettorale delle amministrative di Sciacca ma è noto anche che Messina ha parlato con tanti soggetti della politica locale compreso col PD di Michele Catanzaro il quale attraverso Messina e con gli occhi naturalmente puntati sulle prossime regionali potrebbe rientrare nel gioco che conta le trattative per superare eventuali resistenze tipo quella di Sciacca 2022 potrebbero non essere senza speranza e ancora chi può ragionevolmente escludere che se Turturici non si allea col centrodestra possa farlo con Messina il quale alleandosi proprio con lui nel 2004 gli permise di vincere le elezioni se così fosse tornerebbero ad incrociarsi strade di personalità della vita pubblica che sembravano essersi definitivamente separate insomma c'è ancora tempo per l'inizio della campagna elettorale ma prevale al momento la sensazione che i giocatori in campo abbiano deciso tutti di fermarsi attendendo la prossima mossa quella di sabato di Ignazio Messina tra questi anche il gruppo di Mizzica di Fabio Termine anche lui tenta di allargare il fronte oltre alla propria compagine e quello che rimane del Movimento 5 Stelle che se meno forte del 2017 dopo l'addio di Matteo Mangiacavallo è pur sempre il partito che al momento esprime l'unico parlamentare nazionale saccense nella persona del senatore Rino Marinello Covid in quarantena anche il sindaco di Ribera Matteo Ruvolo è il risultato positivo al coronavirus Ribera la situazione è nettamente migliorata rispetto alle settimane difficili vissute tra fine e inizio anno e nella Sicilia passata da lunedì in zona arancione si iniziano a intravedere i primi segnali positivi di una curva che pare stia iniziando lentamente a scendere il punto sull'emergenza sanitaria in questo servizio Anche il sindaco di Ribera è in quarantena ieri ha effettuato il tampone del risultato positivo al covid è stato proprio Matteo Ruvolo a darne notizia in famiglia siamo tutti contagiati è scritto ma fortunatamente siamo tutti bene con lievi sintomi influenzali grazie al fatto che siamo regolarmente vaccinati elemento utile e importante il sindaco di Ribera lavorerà da casa coordinando l'attività degli altri componenti della giunta che lo sostituiranno in questa fase complessa con tante persone ancora contagiate in isolamento la quarta ondata ha colpito in pieno la città di Ribera che già alla fine dell'anno si è ritrovata con un numero considerevole di soggetti positivi al covid tanto da far scattare la zona arancione sono state settimane difficilissime ma nella città crispina negli ultimi giorni la situazione sta nettamente migliorando la curva sta scendendo e secondo quanto comunicato dall'amministrazione i soggetti attualmente contagiati sono 212 in realtà piccoli segnali positivi si intravedono in tutta la provincia di Agrigento dopo giorni in cui si registravano mediamente oltre mille nuovi contagi anche i ricoveri in ospedale sembrano stabili negli ultimi giorni un trend che interessa tutta la Sicilia regione che da lunedì scorso è in zona arancione ma dove si intravede una seppur lenta lentissima discesa della curva dei contagi il dato che rimane preoccupante è invece quello dei decessi sul fronte vaccinazioni a pochi giorni dall'entrata in vigore dell'obbligo vaccinale per gli over 50 rimane costante a sciacca il dato delle somministrazioni giornaliere delle prime dosi di vaccino una ventina, quelle che vengono effettuate al lab di Contrada Perriera ma procede in maniera significativa anche alla somministrazione delle terze dosi ormai è entrato a pieno regime il sistema delle prenotazioni e senza particolare ressa al lab vaccinale si procede con una media di 450 somministrazioni giornaliere intanto nel panorama della gestione della pandemia che dovrebbe portare nelle prossime settimane ad una revisione delle attuali regole e restrizioni è stato presentato all'Assemblea regionale siciliana un disegno di legge che ha come obiettivo quello di garantire e regolamentare le visite dei parenti a malati covid ricoverati negli ospedali è stato depositato al Parlamento regionale da Danilo Lo Giudice presidente del gruppo misto ed esponente del Movimento Sicilia Vera la presenza dei familiari in un momento delicato e di sofferenza del malato sostiene il parlamentare regionale può rappresentare una risorsa significativa dal punto di vista psicologico capace di alleviare le sofferenze nonché una valida risorsa per le cure medico-infermieristiche il disegno di legge depositato all'Assemblea regionale prevede l'istituzione di team multidisciplinari nelle aziende ospedaliere che curino l'adozione di un protocollo di sicurezza redatto in collaborazione con alcuni esperti nel quale vengano elencate le regole e le procedure da mettere in pratica all'interno dei reparti per rendere possibile che un familiare possa incontrare il proprio congiunto ricoverato per un massimo di 20 minuti ogni settimana previa applicazione di rigide misure di sicurezza che comprendono oltre alla verifica dello stato di salute alla vaccinazione a un tampone molecolare negativo recente anche l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali e l'esecuzione di un processo di sanificazione finale per prevenire qualsiasi rischio appaltato dal comune di Sciacca il servizio di raccolta dei rifiuti dedicato ai cittadini positivi al covid in quarantena obbligatoria investiti 100.000 euro del bilancio comunale per il servizio che fino a questa settimana veniva gestito dall'ASP sentiamo il servizio di raccolta dei rifiuti dedicato ai cittadini risultati positivi al covid in quarantena obbligatoria è partito ieri a Sciacca i rifiuti saranno prelevati settimanalmente dagli operatori direttamente nell'abitazione delle famiglie in quarantena che saranno avvertite telefonicamente preventivamente della data in cui il servizio verrà loro garantito le procedure da seguire prevedono per i positivi al covid l'interruzione della raccolta differenziata e il conferimento di tutti i rifiuti in sacchetti avendo cura di chiuderli bene indossando dei guanti monouso i sacchetti vanno tenuti in uno spazio possibilmente areato in attesa che vengano ritirati una volta a settimana il comune di Sciacca così come tutti gli altri comuni della provincia hanno dovuto appaltare il servizio sostituendosi all'ASP che lo ha garantito fino a poche settimane fa con l'aumento considerevole dei contagi l'azienda sanitaria provinciale ha manifestato ai sindaci l'impossibilità di continuare a garantire il ritiro dei rifiuti cosiddetti speciali lo ha fatto in virtù di una disposizione regionale che ha consentito di delegare il servizio ai singoli comuni la regione ha previsto però che il costo del servizio venga rimborsato quindi i comuni hanno dovuto conferire l'incarico a ditte specializzate e impegnare le somme necessarie che però saranno recuperate il comune di Sciacca attualmente ha impegnato 100.000 euro per garantire il ritiro della spazzatura per le tante famiglie in quarantena che hanno vissuto in questi giorni il disagio di non avere garantito il servizio già da ieri la ditta incaricata ha proceduto ai primi ritiri e così farà nei prossimi giorni l'elenco dei soggetti interessati viene fornito dal comune sulla base delle comunicazioni e dei casi di positività al covid da parte dell'aspe di Agrigento novità al pronto soccorso di Sciacca con la nomina formale a direttore della struttura complessa di medicina e chirurgia di accettazione ed urgenza del dottore Ignazio Galizia analogo provvedimento per il dottore Salvatore Di Vita neoprimario del pronto soccorso dell'ospedale di Licata è quanto comunicato stamattina dall'azienda sanitaria provinciale di Agrigento Ignazio Galizia e Salvatore Di Vita già vincitori del concorso sono stati ricevuti questa mattina dal commissario straordinario dell'ASP Mario Zappia per la formale sottoscrizione del contratto dopo l'incarico conferito ai primari di Sciacca e Licata e addirittura d'arrivo anche l'iter per la nomina dei primari dei pronto soccorso al San Giovanni di Dio di Agrigento e al Barone Lombardo di Canicattì partorisce quasi sulla spiaggia va in grave difficoltà e per poco non ci lascia le vita se non fossero arrivate alcune soccorritrici che hanno subito e chiesto l'intervento del circomare è successo ieri pomeriggio in località San Giorgio dove uno squalo della specie verdesca completamente spiaggiato e i suoi nove figli appena nati sono stati salvati e liberati in alto mare ne parliamo nel servizio è un evento straordinario quello che ieri pomeriggio si è verificato in località San Giorgio dove è stata effettuata un'operazione di salvataggio di un grande esemplare di verdesca l'eccezionalità di quanto accaduto consiste nel fatto che la verdesca ha partorito quasi sulla spiaggia ad accorgersi di ciò che stava succedendo sono state alcune donne che passeggiavano sulla spiaggia la francese Marisla Barbera la tedesca Doris Ackerman la saccense Palmina Maggio e l'algerina Sabba Benziadi che non hanno esitato a chiedere l'intervento della Capitaneria di Porto di Sciacca giunta sul posto con un natante e due agenti della Guardia Costiera ma anche un'imbarcazione della Lega Navale la verdesca completamente spiaggiata era quasi esanime boccheggiante con attorno la piccola prole in affanno Circomare e Lega Navale sono riusciti ad allontanare la verdesca dalla costa liberandola in alto mare dove insieme ai nuovi nati ha ripreso il largo tutto si è dunque concluso a lieto fine al nostro telegiornale il racconto del dottore Mimmo Macaluso direttore scientifico del WWF Sicilia area mediterranea e ieri è successo che da quanto hanno riferito le signore donne che hanno assistito a questo evento un grande esemplare di femmina che è praticamente spiaggiato tra l'altro l'acqua era molto limpia ha consentito di notare che l'animale era ancora vivo e che in quel momento stava pastorendo tra virgolette perché stiamo parlando non di un mammifero ma di un pesce che è oviviparo cioè all'interno ha delle uova che arrivano a maturazione fino a quando poi con una sorta di patto vengono fuori gli avannotti piccoli pesci in questo caso nove esemplari tutti e nove vivi quindi è stato un evento veramente straordinario al quale hanno assistito queste donne e hanno tra l'altro provveduto anche a documentare tutto fotograficamente e in video e a questo punto l'evento credo abbia avuto anche un risvolto abbastanza felice perché ho saputo che è appicciata dalla Guardia Costiera con una unità della Lega Navale di Sciacca e questo esemplare è stato portato all'arco quindi sembra con tutti i piccoli appena nati e sono sopravvissuti sia la mamma che gli avannotti della Verdesca quindi veramente un evento molto interessante quello di ieri non è certo il primo episodio di esemplari di Verdesca che disorientati si avvicinano alla costa fino a spiaggiarsi è già successo a Borgo Bonsignore ma anche a Sciacca la frequenza con cui ormai si ripetono questi episodi è legata al riscaldamento delle acque nel 2018 abbiamo avuto questo spiaggiamento straordinario io vi farò vedere una foto in modo che vedete la grandezza di questo esemplare stiamo parlando di una Verdesca di 3 metri appena spiaggiata morta da poco uccisa da 2 delle sue prede quindi un predatore ucciso dalle sue prede che in questo caso erano 2 pesci spada in quanto nel capo di questi animali nella testa abbiamo trovato 2 gladi 2 spade spezzate quindi è stato un attacco determinato che ha portato il predatore a morire non solo ma dopo qualche settimana un altro esemplare si ho visto a Lido a Sciacca vivo e un altro esemplare ancora stava per spiaggiarsi la sera sempre nella zona di Sciacca quindi cosa succede in questo studio che abbiamo fatto tra l'altro ripeto ha avuto un grande clamore a livello internazionale abbiamo fatto un'attacca alla testa di questo animale è stata la prima volta che si provvedeva a fare questo studio che ha mostrato tra l'altro che una delle due spade ha reciso nettamente il mitolo spinale uscendo sul colpo con l'animale ma soprattutto fare chiarezza di un altro aspetto sembra che il riscaldamento delle acque a cui purtroppo è soggetto anche il nostro canale di Sicilia il nostro stretto di Sicilia determina sia una diminuzione dell'ossigeno di sciolto nelle acque che un aumento dell'endide carbonica l'endide carbonica determina un'alterazione di un neuromediatore in questi grandi predatori che si disorientano quindi possono essere soggetti all'attacco delle loro prede come nel caso dello squalo ucciso di Porco Bonsignore oppure disorientarsi fino ad essere spiaggiati nel caso di ieri probabilmente a complicare tutto c'era appunto l'imminenza di questo ripeto parto che tra l'altro ha dato alla luce 9 piccoli squali quindi probabilmente anche questo disorientamento di questi animali potrebbe essere legato all'effetto del global warming quindi del riscaldamento globale Il violento nubifragio che nello scorso mese di novembre ha colpito la provincia di Agrigente e le successive piogge alluvionali hanno provocato un grave evento franoso nel costone di Portopalo di Menfi dove c'è un cedimento che si aggrava di giorno in giorno e rischia di determinare ulteriori danni per le abitazioni e per l'antica torre cinquecentesca simbolo identitario del territorio Lo scrive il deputato regionale del Partito Democratico Michele Catanzaro in una interrogazione urgente al Presidente della Regione e gli assessori all'ambiente e i beni culturali per conoscere da ciascuno di essi sulla base delle proprie competenze se sono stati disposti sopra luoghi tecnici nell'area interessata e se nel frattempo sono stati programmati interventi di messa in sicurezza che non sono più differibili Catanzaro chiede di sapere se non si ritenga necessario definire uno specifico progetto di lavori urgenti di difesa dei luoghi nell'area interessata a beneficio delle famiglie residenti che oggi sono fortemente preoccupate e della storica torre monumentale inoltre chiede di sapere se negli uffici regionali preposti risulta la disponibilità di un progetto di consolidamento risalente a 20 anni fa il cui ITER non ha avuto seguito gli inquirenti ne sono sicuri il soggetto che qualche giorno fa ha imbrattato la marna della scala dei turchi sarebbe lo stesso che nei mesi scorsi avrebbe danneggiato con atti vandalici la casa natale di Luigi Pirandello l'area 1000 di Punta Bianca i vasi di ceramica di San Leone è il portone del comune di Favara domenico 40 il presunto danneggiatore seriale è stato raggiunto oggi da un avviso di garanzia da parte della procura di agrigento si cercherà di capire se si è responsabile di altri danneggiamenti perpetrati nei mesi scorsi rimasti finora senza colpevole sentiamo un lunghissimo elenco di danneggiamenti e atti vandalici per gli inquirenti il protagonista in negativo sarebbe sempre lo stesso il favarese a domenico 40 che è stato raggiunto oggi da un avviso di garanzia su disposizione della procura di agrigento la marna imbrattata di rosso della scala dei turchi sarebbe stata soltanto l'ultima delle sue nefaste imprese sempre 40 avrebbe danneggiato nei mesi precedenti la relile di Punta Bianca il portone del comune di Favara dato persino alle fiamme i vasi in ceramica collocati lungo il viale delle dune a San Leone e financo la casa museo di Luigi Pirandello in Contrada Caos scritte attribuite a lui sarebbero addirittura apparse sulle mura del carcere Petruse di Agrigento una sorta di danneggiatore seriale raggiunto prima nei giorni scorsi da un avviso orale da parte del questore di Agrigento col divieto di entrare per i prossimi tre anni all'interno del territorio di Real Monte e oggi da questo avviso di Garanzia che potrebbe poi portare al suo rinvio a giudizio il sostituto procuratore Gianluca Caputo gli contesta i reati di danneggiamento danneggiamento aggravato seguito da incendio e porto di oggetti atti ad offendere tanti irraidi vandalici alcuni anche eclatanti che sono finiti al centro dell'inchiesta della procura di Agrigento e delle indagini dei carabinieri del comando provinciale guidati dal colonnello Vittorio Singo e della compagnia di Agrigento agli ordini del maggiore Marco Larovere in precedenza il questore aveva anche chiesto ai suoi danni la sorveglianza speciale opzione rigettata dal tribunale di Palermo agli inizi degli anni 2000 fu protagonista di altri due episodi dal notevole clamore mediatico che gli costarono pure una condanna a 16 anni di reclusione l'11 maggio 2002 fece esplodere una bombola di gas alla fermata Duomo della Metro Rossa a Milano mentre appena un anno prima aveva fatto deflagrare una bombola di gas da campeggio sui gradini del Tempio della Concordia nella Val delle Templi di Agrigento dopo la condanna è ritornato alla ribalta nel febbraio scorso era stato persino intervistato si fa per dire anche da striscia la notizia festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Soccorso a Sciacca seconda giornata dell'Ottavario con tema il dinamismo che punta ad un cambiamento Maria Donna in cammino anche oggi la celebrazione eucaristica del mattino è stata ripresa dalle telecamere di Telemonte Cronio trasmessa a mezzogiorno sul canale 115 e alle 13 sul canale 645 andrà in replica questa sera alle ore 20 sul 115 e alle ore 21 messa online anche sulla nostra pagina Facebook RMK Sciacca domani 27 gennaio è la giornata della memoria Sciacca il sindaco Valenti e l'assessore Mondino dialogheranno online con gli alunni delle scuole primarie della città le bandiere del palazzo municipale inoltre verranno poste a mezzasta un modo per riflettere e per ricordare una delle pagine più tristi della nostra storia la Shoah in cui persero la vita milioni di persone per mano dei nazisti e del loro progetto criminale di arianizzazione sentiamo riflettere fare favorire il protagonismo e questo è il titolo scelto a Sciacca città che legge per l'incontro che si svolgerà online domani 27 gennaio giorno della memoria attraverso cui il sindaco Francesca Valenti e l'assessore alla cultura Gisella Mondino dialogheranno con gli alunni delle scuole primarie sulla triste pagina di storia della Shoah favorire una riflessione condivisa tra generazioni anche su questo delicato tema e compito non facile ma indispensabile soprattutto in un periodo come questo nel quale troppo spesso emergono semplificazioni eccessive quando non veri e propri revisionismi e distorsioni della verità senza retorica né paternalismo si vuole porre la giusta attenzione al fine di impedire che soprattutto nei più piccoli sorga un desiderio di rifiutare l'intollerabile servono dichiarano il sindaco Francesca Valenti e l'assessore alla cultura Gisella Mondino momenti di riflessione anche con nuovi linguaggi per coinvolgere bambine e bambini ragazze e ragazzi attorno ai temi dell'olocausto delle deportazioni delle discriminazioni e della diversità che hanno segnato quel periodo e ancora oggi devono essere ricordati elaborati e discussi per affrontare con maggiore consapevolezza le insidie del presente nel corso dell'incontro gli alunni guidati dai loro insegnanti condivideranno un padlet attività esperienze ed emozioni accomunati dal volere trasformare il ricordo in memoria nella giornata di domani inoltre le bandiere sui prospetti del palazzo comunale verranno poste a mezzasta in segno di omaggio alle vittime dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici nei campi nazisti si stima approssimativamente che il numero delle vittime del processo di arianizzazione promosso dal regime nazista tra il 1933 e il 1945 si aggira tra i 15 e i 17 milioni di persone tra ebrei omosessuali rom disabili non ariani in generale il 27 gennaio del 45 è stata scelta come data simbolo in cui l'esercito sovietico varco i cancelli di Auschwitz il più grande dei campi di concentramento costruiti dai nazisti nel corso della seconda guerra mondiale aprendo gli occhi a un mondo che non si era mai visto costringendo alla realtà dei fatti tutti coloro che sapevano e avevano taciuto portando i responsabili materiali del più grande omicidio di massa di sempre dinanzi al tribunale degli uomini e della storia una tragedia che ha portato il mondo a dire mai più questo periodo storico particolarmente complicato rischia di provocare seri danni alle tradizioni della nostra città Salvatore Monte sollecita l'amministrazione comunale ad intervenire a sostegno della banda musicale Giuseppe Verdi che a causa della pandemia ha sospeso la propria attività per l'assenza di eventi pubblici e religiosi la banda musicale Giuseppe Verdi negli anni ha garantito anche un cambio generazionale utile a mantenere viva questa importante radicata tradizione musicale della nostra comunità riconosciuta anni fa dal Consiglio Comunale come istituzionale la banda Giuseppe Verdi merita oggi più che mai una seria valorizzazione sarebbe opportuno conclude l'ex consigliere di Sciacca al Centro che il governo cittadino valutasse la concessione di un ristore economico utile al pagamento degli oniri in capo all'associazione così come sarebbe interessante allestire iniziative che possano prevedere il coinvolgimento della nostra banda evitando così il rischio di perdere identità e risorse locali che per anni hanno dimostrato valore culturale e professionalità si intitola Piraterie 2 il nuovo libro del sociologo e giornalista Francesco Pira professore all'Università di Messina sullo sfondo il potere del social network nella realtà di oggi vediamo l'informazione in rete sui social e la sua degenerazione a specchio di una società cambiata e incattivita al centro del nuovo libro del sociologo e professore associato all'Università di Messina Francesco Pira il titolo che gioca anche con il cognome dell'autore Piraterie 2 la vendetta pubblicato da Medinove Edizioni che riprende il percorso di uno dei suoi precedenti volumi che risale al 2018 quello che ne viene fuori è un quadro a tinte fosche quello che il direttore della Sicilia Antonello Piraneo nella sua prefazione definisce raccolta di istantanee di vita in cui ciascuno di noi si rivede di certo soprattutto per quanto riguarda il rapporto disfunzionale con le nuove tecnologie i social network voi potrete dire dopo Piraterie occorreva pubblicare Piraterie 2 la vendetta e con Antonio Liotta patron della casa editrice Medinova abbiamo pensato che forse era proprio il caso visto che c'è stata la pandemia e c'è ancora la pandemia visto che il nostro rapporto con la tecnologia è triplicata e la nostra social esistenza è quintuplicata e quindi abbiamo pensato di raccontare ancora una volta attraverso questi interventi settimanali e quindi mettendo insieme tutto quello che la cronaca ci ha restituito e che poi è stato frutto di questa analisi tra il sociologico e la narrazione giornalistica con un pizzico di ironia ma anche con tanta vita vissuta e poi c'è un aneddoto abbastanza carino quando il maestro Nicolò D'Alessandro che ha curato sia la prima che la seconda copertina voleva far diventare questo pirata cattivo visto che il titolo è Pirateria 2 della vendetta non riusciva a trovare una mia immagina in cui ero particolarmente cattivo e allora ho dovuto fare delle foto abbastanza cattive per riuscire poi ad alterare appunto tutti i lineamenti e quindi si è prodotta questa famosa copertina che è quella appunto che così custodisce questo nuovo volume troverete nelle sette sezioni tante cose su cui sorridere ma anche su cui riflettere troverete uno spaccato di quello che siamo di come vorremmo essere e di come siamo stati nella postfazione la docente giornalista Cristina Graziano sottolinea come oggi più che mai bisogna promuovere il valore della persona di cui ci impegniamo a prenderci cura per concorrere alla costruzione condivisa di paradigme aperte alla novità e dare vita a cose nuove ad un linguaggio di verità oltre agli stereotipi e il professor Pira da sociologo e giornalista questo lo fa quotidianamente anche con le sue piraterie che fanno leva sul potere terapeutico della parola con la convinzione che a fare la differenza debba essere questa rinnovata consapevolezza agita e parlata nella quotidianità di ciascuno perché da adulti di riferimento conclude Cristina Graziano abbiamo l'obbligo morale e la responsabilità sociale di non sostituirci ai giovani ma di dare loro gli strumenti per affrontare da protagonisti il divenire divenendone volutamente e caparibbiamente artefici e dopo il libro di Pira vediamo qual è il libro che ci consiglia la Mondadori Daniel vive a Quartogiaro periferia di Milano in famiglia il clima è teso pochi soldi e continui litigi cresce nei cortili delle case popolari ama il calcio e in campo è il più forte tanto che a dieci anni gioca con la maglia dell'Inter le aspettative su di lui sono altissime e non vuole deluderle ma quando durante una partita Daniel manca il gol decisivo il sogno di diventare un calciatore famoso è infranto per sempre alle medie Daniel è un bullo temuto da tutti carico di rabbia ed aggressività sente che l'unico modo per guadagnarsi il rispetto è incutere paure e non temere niente neanche di fare un colpo in banca e infatti lui le rapine arriva a farle per davvero finché finisce al Beccaria il carcere minorile è considerato un ragazzo perduto e recuperabile a segnare la svolta l'incontro con Don Claudio il cappellano del carcere Daniel viene affidato alla sua comunità che accoglie ragazzi difficili e lentamente impara a guardare le cose da una nuova prospettiva dall'autore di Il disobbediente viva la Costituzione un'appassionante storia vera di rinascita amicizia e amore per la vita Ero un bullo la vera storia di Daniel Zaccaro di Andrea Franzoso edito De Agostini anche oggi termina il nostro telegiornale grazie per essere stati con noi appuntamento alle prossime edizioni Grazie a tutti Grazie a tutti